Tempo di esame di maturità per gli studenti italiani. Al Via stamattina si sono presentati sui banchi di scuola mezzo milione di ragazzi che hanno affrontato la prova d'italiano. In Sardegna i maturandi sono 13.000, alcune migliaia in provincia di Nuro. Le tracce del tema d'italiano hanno suscitato come al solito sorprese e curiosità, non corrispondendo, salvo un'eccezione, alle previsioni della vigilia. Gli esperti del Ministero della Pubblica Istruzione per la maturità 2014 hanno scelto la poetica di Salvatore Quasimodo con l'analisi del testo, della poesia e ride alla gazza nera sugli aranci, tratta dalla raccolta ed è subito sera. Ma nell'anno in cui cade il centesimo anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale non poteva mancare una traccia sulla violenza che ha infiammato il Novecento e le differenze tra quell'Europa devastata da guerre fratricide e il continente europeo che con tutte le difficoltà si avvia all'integrazione politica ed economica. Il tema di attualità ha preso spunto da un articolo dell'architetto Renzo Piano sul rammendo delle periferie pubblicato dal Sole 24 Ore che parla della bellezza e insieme alla fragilità dell'Italia. Un altro argomento scelto per la maturità 2014 è stato quello del dono da sviluppare dopo aver letto tra gli altri brani quello di Grazia Leda dal titolo Il Dono di Natale, prova che hanno impegnato a fondo gli studenti che di fatto hanno iniziato il rush finale per conseguire la gognata maturità che per molti sarà il traguardo definitivo per cercare di trovare un lavoro, cosa difficile vista l'altissimo tasso di disoccupazione giovanile che sfiora il 50%. Per altri sarà il trampolino di lancio per l'università, anche in questo caso con la speranza che la laurea serva a trovare un'occupazione. Dopo le fatiche di oggi, domani si ricomincia con la prova di matematica per il liceo scientifico, di greco per il liceo classico e le prove tecnico-scientifiche per gli altri indirizzi.